Come nasce quest'arte? Allora, nel prender parte, o meglio, in verità la poesia è ovunque in ognuna di noi, quindi è un'arte che nasce con noi, è un'arte che nasce dentro, occorre avere una buona emozione per continuare a scrivere, ma è un'arte che non ha bisogno di grande artisticità, anzi una parola per viaggio, non scappate, non vi stiamo vedendo nulla, una parola, solo una parola, terrore, una parola mi serve, dai girati, abbi fede, per viaggio. Non so che mi senti, eh? T'ho sgavato, eh? Alla fine. Quindi è una questione di coinvolgimento, di dialettica e relazione con la scrittura da sempre vi è, anzi si fa coincidere con la nascita della società, dell'idea umana di stare insieme. Grazie a tutti.